Mi fa molto, perché hai già il personaggio pronto, perché hai già un mondo dove farlo muovere, sai già come citarlo, eccetera, eccetera. Questo personaggio, devo dire la verità, a me piace. Ha una sua, come dire, una sua umanità un po' deppressa che mi fa anche un po' vivere. Per cui chissà, spero, spero di sì. Adesso ne sto scrivendo un altro sulla falsa linea Genova-Alessandria, però non credo che compareva anche lui, perché ha preso al suo posto una poliziotta donna e credo che era al suo posto, non credo che la licenzierò.